Un ritrovamento che fa sperare soprattutto gli ambienti della Curia dell'Aquila, i quali si augurano che si tratti dei resti di San Massimo d'Aveia, patrono della città dell'Aquila insieme a San Giorgio. Ma di certezze da questo punto di vista non ce ne sono ancora. Risposte più precise e puntuali sui resti dei tre uomini ritrovati in un sotterraneo davanti all'altare maggiore della cattedrale di San Massimo in Piazza Duomo, potranno arrivare nelle prossime settimane, soltanto dopo gli esami e le indagini degli archeologi paleontologi della soprintendenza e della Curia. Non resta dunque che aspettare per conoscere l'identità dei tre individui ritrovati tre mesi fa dagli specialisti del MIBAC nel corso dei sondaggi propedeudici a lavori di ristrutturazione e recupero della cattedrale, finalizzati dunque a individuare eventuali murature presistenti e per sondare la solidità delle fondazioni. Si tratterebbe di tre alti prelati, una scoperta che costituisce una sorpresa sino a un certo punto, come spiega il RUP, il responsabile unico del procedimento per il restauro del Duomo, Claudio Finarelli. Si tratta, per quel che dicono anche gli esperti della Curia, con molta probabilità di alti prelati, probabilmente almeno per due si dovrebbe trattare di vescovi, perché sono stati appunto rinvenuti insieme alle salme due cilindri di piombo che volendo attualizzare dovrebbero essere una sorta di carta d'identità di due dei tre individui. In che stato erano questi tre corpi, questi tre scheletri? Diciamo semi mummificati, nel senso che il livello di conservazione è appunto abbastanza elevato, il che potrebbe far pensare anche ad una datazione abbastanza recente. Teniamo conto appunto del fatto che era usuale seppellire soprattutto gli alti prelati all'interno delle chiese. Qualcuno parla appunto di probabili resti che potrebbero risalire anche al terremoto del 1700.